Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarmi e non lasciano niente, lo scrivo anche tramite e nelle stanze trovo solo luci spinte sapresti che verrà e che organizza la cena, restare dietro al banco e portare con la sua italiana e che pesche la cena, restare dietro al banco e portare con la sua italiana Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.